Sindaco, a distanza di quattro anni, ritorna la polemica per questa scritta Duxa, ma era necessario ripulirla? Non è necessario, ma credo che la volontà del Sindaco, dell'amministrazione, ma anche e soprattutto della popolazione di Villa Santa Maria, che è cresciuta con la scritta, valga la pena ogni qualvolta è possibile ripulirla. Questa è stata un'occasione perché abbiamo la realizzazione di altre vie di risalita per rocciatori e quindi ho chiesto al rocciatore di ripulirla. Il Sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, risponde alle polemiche sollevate dopo la ripulitura della scritta Duxa sul costone che sovrasse il paese. La vicenda risale al 2019, quando l'allora onorevole Camillo D'Alessandro fece un'interrogazione parlamentare in cui denunciava la scritta sulla montagna. Quella scritta è lì dagli anni 40, risponde il Sindaco. È una scritta incisa e non dipinta ed è in rilievo e quindi va ripulita con acqua e una spazzola di ferro. È un lavoro anche duro perché le lettere sono alte 4 metri, ma non c'è nessuna volontà di dover ripristinare qualcosa. Non si inneggia nulla. La scritta è lì dagli anni 40, è stata realizzata da dei villesi. Non sappiamo se per imposizione o perché ci fosse qualche altro motivo, ma noi villesi ne siamo legati in buona sostanza. Quindi non c'è nient'altro. Quando si parla di Alessandro, parla di apologia di reato, insomma, mi stupisce anche un po' perché il sottosegretario Sibilia rispose a una sua interrogazione e precisò esattamente in quell'occasione che non c'era nessuna rilevanza, insomma, in buona sostanza, anche perché noi non abbiamo fatto nulla. Abbiamo solo ripulito quello che ci è sempre stato. Non ha timore che possa essere un luogo di ritrovo per alcuni neofascisti, per esempio? No, guardi, anche all'epoca, nel 2019, mi fu fatta la stessa domanda e poi il tempo ci ha detto che in effetti, insomma, così non è. Anche perché, insomma, la scritta, come dicevo prima, è lì da tempo. In buona sostanza tutti possono guardarla, ammirarla e soprattutto conoscere quello che vuol dire. Perché bisogna guardare da entrambi i punti di vista, come sempre gli estremismi a destra e a sinistra non hanno mai portato nulla di buono e per chi conosce me e la mia storia familiare, insomma, non ha dubbi che non c'è nessuna volontà di ripristinare alcunché. La scritta resterà lì. La scritta resterà lì e secondo me verrà ripulita anche nei prossimi anni. La scritta resterà lì, adesso non c'è nessuna volontà di ripristinare alcuni. Grazie.